Consiglio regionale in riunione oggi con una doppia seduta. I lavori della mattinata sono stati interamente dedicati ad una lunga informativa del presidente della regione Donato Toma sulla gestione dell'emergenza covid in Molise, vaccini, posti letto di terapia subintensiva e intensiva, ospedale da campo a Termoli, Vietri, passaggio in zona arancione del Molise, monitoraggio, ampliamento della zona rossa in basso Molise, bando per il nuovo personale. Toma ha toccato tutti i punti caldi del momento. Sul fronte vaccinale il governatore ha comunicato la richiesta formulata al commissario Giustini di procedere alla somministrazione del vaccino alle persone disabili. Sul tema dei letti Toma ha chiarito la quantificazione dei posti di terapia intensiva che nelle scorse settimane erano stati oggetto di polemiche e dubbi. Sono 39 complessivamente tra quelli presenti negli ospedali pubblici e quelli resi disponibili dai privati, quelli allocati presso il Cardarelli, sono 12. Dati ha precisato forniti ufficialmente dalla struttura commissariale. In ogni caso ha detto il governatore qualora si verificasse la saturazione delle unità disponibili è possibile ricorrere al meccanismo della CROSS, cioè il trasferimento dei pazienti in altre regioni. Al momento sono sei le persone che sono state già trasferite. Alla necessità per i posti in sub intensiva si è fatto fronte, ha detto sempre il governatore, con le unità attivate presso l'ospedale Gemelli, presso cui sono ricoverati al momento 16 pazienti su un totale di 20 posti disponibili estensibili a 54. Sull'ospedale da campo a Termoli i lavori sono partiti oggi e verranno completati nell'arco di poche ore, 24 posti destinati ad alleggerire la pressione sul Santimotio. Intanto vanno avanti anche i sopralluoghi alvietri per ulteriori posti di terapia sub intensiva. Sul passaggio in zona arancione, Tom ha riferito dell'interlocuzione avuta col ministro Speranza e con la comune condivisione delle valutazioni effettuate dai tecnici sul peggioramento degli indici e la trasformazione del territorio regionale da giallo ad arancione. Per la zona rossa il governatore ha dato conto dell'ampliamento anche ai cinque comuni che erano rimasti fuori dall'area afferente al distretto termolese. Ad oggi quindi tutto il Basso Molise è zona rossa. Sul fronte del personale necessario per le strutture sanitarie, Tom ha comunicato la chiusura del bando emanato attraverso la protezione civile per il reperimento di 63 unità tra medici, infermieri e operatori sociosanitari.